operazione antidroga della polizia sequestrati a fano 600 grammi di cocaina ex carcere minorile il comune lo mette in vendita ma nessuno lo vuole il trova tutto stefano lascia pesaro ma il titolare si appella al comune per restare stars è l'ultimo brano della ben pesarese 12 vex stones buona serata buona serata e benvenuti al nostro telegiornale questa sera in apertura partiamo con la cronaca infatti c'è stato un maxi sequestro di cocaina in un'operazione congiunta dei commissariati di polizia di fano urbino e della squadra mobile con l'arresto di un albanese i dettagli nella conferenza stampa di questa mattina in questura nel servizio di thomas del bianco la zona dello spaccio era fano nel quartiere san lazaro lì viveva il cittadino albanese arrestato nell'operazione condotta dai commissariati di fano e urbino della polizia e dalla squadra mobile nel suo appartamento sono stati trovati 600 grammi di cocaina di alta qualità per un valore di circa 100 mila euro pronti ad essere venduti in un giro che in base alle indagini svolte si allargava tutta la valmetauro il quantitativo supera il mezzo chilo di cocaina una qualità molto elevata quindi molto apprezzata sul mercato da parte degli acquirenti acquirenti che non solo interessavano la città di fano ma si estendevano un po' in tutta la valle del metauro quindi un bacino molto notevole di utenza notevole l'indagine è partita da fano quindi perché abbiamo notato movimenti veramente sospetti nella zona di san lazaro dove l'arrestato abitava da lì tutta l'attività investigativa si è congiunta con quella operata anche dal commissariato di urbino che analogamente procedeva per una serie di movimenti in città come Fossombrone, Acqualagna, Fermignano e la stessa urbino e quindi le due operazioni si sono congiunte il fornitore e lo spacciatore era unico quindi di fano e quindi con il coordinamento della squadra mobile di Pesaro che ha appunto coordinato poi tutte le attività e indagini insieme al commissariato di fano e al commissariato di urbino siamo giunti all'arresto di questo grosso spacciatore canale insomma di rifornimento e di spaccio proprio al dettaglio della cocaina sulla piazza di fano e di tutta la valle del metauro sono arrestata di nazionalità albanese, non è comunque conosciuto ai nostri archivi, non ha un pregresso diciamo quale criminale, non è conosciuto soprattutto neanche come reati specifici nell'ambito dello spaccio di droga e il quantitativo è un quantitativo che come dicevo superando il mezzo chilo di sostanza stupefacente ovviamente veniva piazzato a circa 80 ai 100 euro al grammo quindi insomma il valore commerciale arriva ai 80 mila euro quasi arrivando ai 100 mila euro insomma questo è solo un rifornimento che avrebbe interessato per circa una settimana 10 giorni e considerate quindi insomma l'introito e il giro d'affari che era sotteso a tutta questa attività non si ferma mai comunque la nostra attività di prevenzione e repressione per lo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la provincia di Pesaro Urbino per questo ripeto come squadra mobile con l'attività anche con l'ausilio dei due commissariati opera in tutta la provincia, pochi giorni fa c'è stato un arresto anche su Valle Foglia un altro canale anche in quel caso analogamente comunque si è proceduto in questo senso e quindi in questo caso ha interessato più la zona sud della provincia, la zona della Val Metauro con il terminale di Fano e quindi le operazioni naturalmente proseguono ad ampio raggio E adesso ci spostiamo a Fano, la polizia stradale infatti ha denunciato in stato di libertà l'autore di diversi furti di merce avvenuti negli autogrill dell'A14 il suo modus operandi sostanzialmente identico in tutti gli episodi faceva sospettare che ad operare fosse un ladro seriale, un particolare accanimento è stato registrato nei confronti del punto di ristoro di Esino Est, posto sotto vigilanza da parte dei poliziotti si tratta di un camionista pugliese di 60 anni che come emerso dalle immagini della videosorveglianza aveva una predilizione particolare nella scelta della merce da rubare i dolciumi, soprattutto cioccolatini di marca Niente da fare per la vendita dell'ex carcere minorile anche questa mattina a sta deserta siamo andati a vedere la situazione di degrado dell'immobile alle porte del centro storico vediamo Alle mie spalle l'ala degradata dell'ex carcere minorile Siamo sul lato di via Bertozzini, una struttura in forte difficoltà che è rimasta senza alcuna riqualificazione rispetto all'intero complesso nel quale ora si trovano appartamenti, il centro per l'impiego e la formazione e l'area sportiva all'interno Questa mattina si è tenuta in comune l'asta per cercare di vendere quest'ala al prezzo base di 675 mila euro ma il tavolo del segretario comunale è rimasto desolatamente vuoto Non c'era nessuna offerta, nessuna busta e questa struttura continua a restare nell'oblio L'unico bene in vendita nell'asta comunale aggiudicato è stata la sede dell'ex farmacia Zunghi in via Branca Si partiva da una base d'asta di 290 mila euro Sono arrivate due offerte, una delle quali con un rialzo di 352 mila euro Da un'asta appena espletata ad un'altra fissata per il 10 dicembre In quell'occasione l'Inps tenterà di vendere nuovamente il complesso di Villa Marina dopo 4 aste andate deserte In vendita gli stessi due lotti del precedente bando I 12.542 metri quadri del comparto con la colonia ex scuola Convitto Piscina con un valore a base d'asta di 4,5 milioni di euro E la zona sportiva, sull'altro lato della strada che non è più utilizzata dopo il fallimento dell'ultimo gestore per un importo di 1,8 milioni di euro Il terzo blocco, quello della ex Pesaro Studi anche questa volta non è stato messo in vendita In consiglio comunale l'assessore Belloni ha accennato all'ipotesi nel caso che Cassa Depositi e Prestiti dia il benservito definitivo agli uffici comunali di Largo Aldomoro e con l'impasse giudiziario dell'ex tribunale di trasferire in via temporanea i servizi urbanistica e anagrafe proprio all'ex Pesaro Studi Nel ventaglio di ipotesi anche la ex sede della Banca d'Italia e la scuola Olivieri quando verrà liberata dagli studenti con la nuova struttura di Via La Marmora anche se su questo immobile è aperto anche il ragionamento sul ritorno dall'università Ed ora un appuntamento da non perdere venerdì 6 dicembre alle 17.30 il settore disabilità in età evolutiva della cooperativa Labirinto insieme all'associazione Genia curerà nella sala nobile di Palazzo Gradari i custodi dei fiori l'incontro realizzato con il patrocinio del comune di Pesaro e in collaborazione con l'associazione Libera Musica vuole raccontare pensieri e vissuti di padri e madri con figli disabili in questo appuntamento padri e madri racconteranno le loro esperienze accompagnati da immagini, musiche e letture curate da Claudia Urbinati e Lucia Ferrati Ed ora andiamo a parlare di un'attività economica del nostro territorio Stefano, il popolare store Trovatutto della Torraccia dopo le festività natalizie lascerà Pesaro per trasferirsi a Vallefoglia il titolare Stefano Piccini Leopardi però lancia un ultimo appello al comune di Pesaro per individuare una soluzione urbanistica che gli permetta di mantenere l'attività in città vediamo l'intervista Io sono entrato con un piano di sviluppo in questo sito e ovviamente avevo quattro capannoni ho cercato di congolobare il tutto in un unico negozio e mi sono accorto solo in un secondo momento di avere un problema legato ad una destinazione d'uso di questi capannoni che per quanto io possa essere venuto a fare la spesa per 25 anni dentro 1200 metri quadrati di capannone oggi mi ritrovo a non poterlo utilizzare per gli stessi metri quadrati e questo comporta ovviamente una doverosa chiusura dell'attività perché non riesco a esprimere la mia capacità commerciale su una superficie inferiore me ne sto rendendo conto non ce la sto facendo e quindi di conseguenza la mia scelta obbligata dopo un'attenta ricerca al fatto che al fatto che dei capannoni a Pesaro di questa portata non ci sono cioè io non riesco a trovare una nuova struttura o una struttura anche rinnovata e infatti anche la possibilità di rinnovare questa cioè io sono disposto a spendere qualsiasi cifra perché i fatturati di un'azienda come la mia sono molto alti quindi sono disposto a investire qualsiasi cifra pur di avere la possibilità di rimanere in questo sito sono disposto a investire qualsiasi cifra pur di rimanere a Pesaro e poter continuare la mia attività ovviamente ho bisogno di qualche mese per organizzare il lavoro io sono un ragazzo molto veloce nelle mie decisioni chi mi conosce commercialmente sai che io dalla mattina alla sera ti decido di aprire un magazzino quindi non ho problemi di tempi lunghi chiedo solo qualche mese di poter stare tranquillo di poter finire anche perché attaccarmi in un periodo nel quale il fatturato è triplicato con fronte alla normalità che possiamo dire per farvi un po' di numeri legati alla cassa ieri sera abbiamo incassato 20.000 euro nella normalità ne incassiamo 5.000 adesso andarmi a dire stop ferma 20.000 io ho tutti i dipendenti ho le spese devo far fronte a un anno di attività devo far fronte a tante altre cose quindi da parte tua un appello anche provare a rimanere ancora beh da parte mia sicuramente non è che io ho preso la decisione prendo e vado via da Pesaro assolutamente io sono aperto a qualsiasi cosa voglio capire cosa loro vogliono da me e io lo faccio senza compromessi cioè se loro mi dicono fai quello, quello e quell'altro ti lasciamo qui a lavorare tranquillo io lo faccio e dobbiamo lanciare un appello anche all'assessore urbanistica che si occupa di queste cose ma sicuramente ma sicuramente guarda se ci può venire incontro se ci può aiutare in qualsiasi modo noi siamo qui ho i miei tecnici che posso mandarli in qualsiasi momento possono valutare insieme qualsiasi ipotesi pur di stare di continuare a lavorare parliamo anche degli acquisti siamo limitati anche negli acquisti ci siamo bloccati completamente sotto Natale noi siamo completamente bloccati le scaffalature si iniziano a svuotare perché io anche con le aziende dove compro non so più come muovermi ho paura di comprare e quindi sta andando un pochino tutto un po' a rotolo ho bisogno di riorganizzare allora il dire chiudo Pesaro e riapro su Montecchio è anche un dire ok ho un piano di evacuazione da questo status adesso faccio qualcosa di di costruttivo per il mio negozio per l'attività e per continuare andare avanti abbiamo trovato anche un altro capannone vedi poi fuori provincia purtroppo io riesco a trovare a Fano riesco a trovare a Misano riesco a trovare io se c'è un'agenzia chiunque esso sia che mi può trovare un sito ovviamente commerciale sui mille metri quadrati eccetera eccetera io domani mattina lo prendo sono stati presentati oggi nuovi servizi della Camera di Commercio delle Marche vediamo il servizio presentati nella sede pesarese della Camera di Commercio delle Marche i nuovi servizi dello sportello unico delle attività produttive per la semplificazione e standardizzazione ad ascoltare i relatori in sala i rappresentanti dei comuni della provincia di Pesaro Urbino i responsabili del SUAP ordini professionali e associazioni di categoria del territorio si tratta di illustrare un importante accordo che è stato realizzato tra la Regione Marche la Camera Unica delle Marche e l'Anci Marche che ha lo scopo di diffondere il SUAP che è già nella disponibilità dei comuni sull'unica piattaforma Infocamere che si estende su tutto il territorio nazionale quindi l'iniziativa di oggi serve a sensibilizzare i comuni ad utilizzare questa importante piattaforma che darebbe procedure uniche a tutte le imprese e quindi migliorerebbe anche le condizioni competitive tra le imprese Sicuramente oggi il SUAP è uno strumento utilissimo per le imprese una semplificazione proprio per il loro volume d'affari è fondamentale Direi proprio di sì del resto va ricordato che le Camere di Commercio tra i loro compiti istituzionali hanno quello di mettersi dalla parte delle imprese verso le altre pubbliche amministrazioni affinché la vita delle imprese sia resa sempre più semplice e sempre più immediata perché i problemi competitivi delle imprese si devono risolvere con velocità se c'è ritardo si perdono delle occasioni e si perdono anche posti di lavoro Ovviamente è anche un messaggio ai comuni di poter applicare queste procedure perché è un rapporto fondamentale Io credo che il numero dei comuni che oggi sta partecipando è importante questo testimonia all'interesse c'è anche la gratuiticità di questa iniziativa per i primi anni confido che si dia una risposta corale perché le imprese hanno bisogno al massimo di semplificazione e di immediatezza Nel pomeriggio sempre in Camera di Commercio è stato presentato il servizio stampa in azienda è il nuovo servizio online pensato per rendere più semplice la vita agli imprenditori che vada a affiancare i servizi digitali già offerti dal sistema camerale si tratta della telematizzazione dei certificati che attestano l'origine delle merci destinate al mercato estero grazie ai sistemi informatici i documenti in questione vengono ottenuti dalle imprese mediante una procedura che prevede richiesta, pagamento e ogni altra comunicazione osservazione accessoria svolta interamente online il procedimento prevede anche la possibilità per gli imprenditori marchigiani di stampare direttamente in azienda i certificati d'origine con risparmio di tempo e costi è in programma domani pomeriggio alle 18 il consiglio comunale per votare la delibera di indizione del referendum sulla fusione tra i comuni di Pesaro e Monte Cicardo per arrivare a questa fase sono state raccolte 250 firme dal comitato promotore se l'atto verrà approvato dal consiglio si potrà tenere il referendum per la procedura di fusione per incorporazione di Monte Cicardo nel comune di Pesaro il prossimo 19 gennaio il direttore generale di confcommercio Pesaro Urbino Amerigo Varotti ha voluto salutare Marco Vampa titolare del bar in via Lombrosa Muraglia che insieme ai figli Valentino e Gianluca manda avanti il bar Vampa con annessa licenza di tabaccheria a Marco Vampa il direttore Varotti accompagnato dal segretario dei pubblici esercizi Marco Arzeni ha donato un libro sulla storia del commercio a Pesaro e due distintivi con l'aquila di Calimala simbolo di confcommercio ed ora spazio alla musica del nostro territorio la band della provincia di Pesaro Urbino 12 Back Stones ha pubblicato il video del brano Stars il loro ultimo singolo all'interno dell'album Becoming due componenti della band sono venuti a trovarci in redazione per parlarci del loro lavoro e chiaramente dei prossimi impegni vediamo 12 Back Stones è una band locale che hanno pubblicato da poco qualche mese fa un album una band che però va anche a suonare spesso fuori dalle nostre porte parliamo di questo album Becoming che cosa troviamo all'interno? si all'interno trovate dieci brani rock di chiave rock stile anni 80 edito da Wreck Music Label e in produzione artistica seguita da Pietro Foresti che è un Pietro è un produttore che sta collaborando con tantissimi artisti tra cui anche Tracy Gans che è il fondatore dei Gans and Roses quindi abbiamo avuto alle spalle un grandissimo staff registrato a Frequenze Studio a Imola trovate un album decisamente sotto l'aspetto proprio di chitarre suoni assolutamente moderno ma ancorato a degli stili del passato l'ultimo video che avete pubblicato è Stars diciamo qualcosa in più di questo brano assolutamente Stars è forse l'album scusate il brano che rappresenta di più il nostro gruppo al momento in quanto ci sono delle connotazioni chiaramente rock ma anche da spazio a melodie quindi anche si è versatile per ogni ascoltatore decisamente forse è il nostro brano più di punta all'interno sette anni questa band che suona insieme siamo da sette anni insieme al 2012 siamo conosciuti sette anni fa lui con tornando da Firenze dall'università con il bassista e poi con tramite annunci su online e anche annunci scritti su bigliettini ci siamo riuniti tutti poi abbiamo cominciato a mettere giù i primi pezzi in una sala prove a Fano e cominciare a lavorare sui nostri pezzi per fare il primo EP e poi di conseguenza quest'album qui è uscito quest'anno prossimi impegni prossimi impegni ci potete venire a vedere il 14 dicembre a Lupin a Pozzo qui quindi e poi abbiamo una data il 14 gennaio al Rock and Roll di Milano in diretta radio quindi gruppo spalla ancora da capire come siamo però sicuro siamo lì a through the night blows away through the time on my way back to the stars e questa era l'ultima notizia di questa sera intanto vi ricordo la programmazione su Rossini TV infatti alle 21.10 in prima serata vedrete l'inaugurazione di una mostra al The Bid Art Space dal titolo Aritmia e subito dopo intorno alle 21.30 potrete scoprire il bellissimo evento del Natale più a Fano grazie per averci seguito anche questa sera prossimo appuntamento con l'informazione alle 7.20 domani mattina in diretta